Tu qui non ci puoi stare, te ne devi andare. Senti, sei stato tu a metterla su quella macchina. L'hai costretta ad andare via dalla festa. Stai zitto, stai zitto, Monforte, zitto! Guarda che Fiamme è mia moglie. E io ho il diritto di stare qui, è chiaro? Sono venuta appena a mia chiamata. Come sta Fiamme? È in sala operatoria. Mia mamma è con lei, purtroppo non sappiamo ancora nulla. Mi dispiace. È stato un incidente? No. Non è stato un incidente. Fiamme era la guida della mia macchina e qualcuno l'ha buttata fuori strada. Come fai a dirlo? È sparito il cellulare. Quello di Ivan. Quello che Alessandro voleva a tutti i costi, perché sicuramente c'è qualche prova schiacciante contro di lui. Ma che dici? Questo non lo puoi sapere. No, aspetta, lascialo parlare. Stai dicendo che è Alessandro? Che l'ha buttata fuori strada? Non può essere stato Alessandro, va bene? Io l'ho visto. L'ho visto. Hai visto Alessandro? Sei sicura? L'ha beansnato. Non lo puoi sapere. Alla ci hanno scopere. No, non lo puoi sapere. Non lo puoi sapere.